La nostra flotta è pronta a decollare. Qui all'aeroporto di Bergamo non ci siamo mai fermati. Durante tutto il periodo del lockdown abbiamo lavorato incessantemente per mantenere la nostra flotta efficiente ed operativa. I nostri passeggeri troveranno una cabina igienizzata e sanificata regolarmente e un ambiente confortevole e sicuro. Bergamo è pronta al decollo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. L'aeroporto, il nostro aeroporto, l'aeroporto di Milano Bergamo è pronto ad accogliervi quando deciderete di tornare liberi a volare. Ci troverete come sempre, come prima, un sorriso sul volto per darvi il benvenuto. In questi anni abbiamo imparato a conoscere, abbiamo imparato a conoscerci. Abbiamo cercato sempre di dare risposta a quello che vi aspettate. Siamo armati di un entusiasmo incredibile. La gente scalpita, hanno voglia di incontrarvi e di farvi trovare un ambiente sicuro, sano, per poter volare felici e liberi come avete fatto sempre prima. Ci siete mancati, ci siamo mancati reciprocamente. Non vediamo l'ora di rincontrarvi. Il numero sempre maggiore ci avete preferito nel corso degli anni, facendoci crescere e consentendoci di diventare un asset fondamentale per il trasporto, non soltanto di questa regione, ma dell'Italia e direi anche dell'intera Europa. Non vediamo l'ora di avervi ancora nuovamente presso di noi e di ricominciare a collegarci e collegarvi verso l'Italia, verso l'Europa e verso il mondo.